Sapata, El Sharawi, prova ad andare, efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi, ci sarà ancora calcio d'ango, attenzione al tiro, e c'è il gol, palla in rete, era quasi fisiologico che prima o poi il gol dovesse arrivare, non è facile ripendersi in inferiorità numerica. Sì, stanno pagando a caro prezzo la loro scazza tenuta nervosa. Il gol era nell'aria e puntualmente è arrivato. E ha punito i difensori, non lascia scampo, la sua è una sentenza. Davvero clamorosa la distanza fra le due squadre.